buongiorno buon sabato sono un pochino in anticipo ma così diamo il tempo a tutti di ricevere la notifica o di non riceverla e accorgersi che siamo live bisogna usare di tutti gli stratagemmi del caso in questo momento in cui facebook fa un po fatica a mandare le notifiche a me stessa devo dire buongiorno buon sabato oggi facciamo un mash up tra la 49 e doodle bug dovrebbe essere fattibile ho scelto di fare doodle bug mi sembrava un pochino più veloce invece che l'album che ho in mente con la crafty garden ma non lo abbandoniamo quello solo che portate pazienza oggi è arrivata l'amica emicrania è quel momento del mese in cui viene a farmi visita questa disgraziata e quindi in pratica stamattina non ho concluso niente col gn buongiorno ben arrivati buon sabato pomeriggio qui oggi c'è un gran bel sole si sta meglio poi insomma il sole la luce mettono di buon umore ci provano quantomeno poi insomma eccovi oggi è l'international scrub booking day è la giornata internazionale dedicata questo hobby che coinvolge in tanti modi diversi la carta non dico che sia il paper crafting day perché lo scrub booking day però noi ci 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 come dire uniamo ai festeggiamenti realizzando un albumino ieri anche tu col mal di testa allora con questi cambi di temperatura sto sentendo tantissima gente che in questo momento sta soffrendo particolarmente io ne soffro quasi sempre spesso e quasi sempre in questi momenti di cambio e poi c'è quella dlin dlon al mese che non è bello no ma mi sono scelta una cosina facile quindi oggi international scrub booking day noi lo cerchiamo facendo un albumino e ho aggiunto ancora grazie a qualche velata richiesta insomma ho aggiunto di nuovo la categoria delle nostre vecchie cose al 50 per cento quindi trovate quella 75 quella 70 e le nostre al 50 e in più avete in omaggio il traveler così a scelta mi raccomando fate in modo di avere i pop up attivi altrimenti ovviamente non non si apre mal di gola perché io ieri sono uscita per fare la spesa con la micro temperatura che avevo qua e quindi avevo il mio cappottino leggero la sciarpina la maglia di lana sotto entro in macchina 92 gradi e poi per forza è difficile ma ho anche mal di pancia schiena mamma mia allora io sono catorcio e lo assolutamente lo dichiaro senza vergogna alcuna sono veramente una cartella clinica impegnativa so che non mi lasciate sola grazie bevo il mio caffè così poi intanto apriamo questo ce la prendiamo con calma tanto dovrebbe essere abbastanza semplice non ho ben capito ma adesso poi lo guardiamo insieme se ci sono tutti questi elementi per fare il cascade o solo uno adesso vediamo dovrebbero bastarmi le carte di questo kit comunque adesso vediamo adesso vediamo buon pomeriggio ben arrivati buon sabato oggi qui una bella giornata dicevo il mio la mia pianificazione del pomeriggio prevede di dormire quindi insomma non ho grandi attività ludico ricreative in mente sono particolarmente stanca quindi ne approfitto e via allora intanto ho bevuto il caffè così togliamo la tazzina che a rischio rischia un po di sporcare tutto allora intanto che finite di arrivare apriamo questo foglio ho scelto il foglio il foundation pages c perché ce ne sono di tanti tipi diversi vediamo se avrò bisogno di aiuto come dice sarà sarà salami che non se c'è o se ce la posso fare senza grandi indicazioni allora ho letto che ci sono questi tre attacchi volendo per aggiungere le pagine poi queste sono le paginette interne dunque guardiamo l'immagine dietro eh sì ne approfitto per riposare perché altrimenti non non si recupera più allora dunque questo qui ops abbiamo fatto volare il doodle pop allora intanto che finiti di arrivare apro allora questo qui è questo che ha i segnetti che ci consentono di far aderire ah eccoli qua di far aderire questi mi sento già in difficoltà tutto bene ma non benissimo allora questo qui e sarà qua dentro e da il coso qui e e questo a u è grande aspetta che mi sa che non mi bastano non mi basta questo kit qua dovrò fare il cambio in corsa e prendere l'altro e prendere il kit di carte e guardate che grosso che è non avevo allora questo probabilmente potrebbe essere ragionevolmente la copertina e qui ha questo qui ce n'è uno che viaggia di qua ma questi sono più grandi no oddio dunque niente panico questi sono sottili quindi in realtà potrebbero essere incastrati di dentro questi sono gli hinge questi allora secondo me devo attaccare tutti tutti i movimenti qua a cascata fold pages and glue the edges to create a cascade waterfalling quindi faccio tutti e tre gli elementi poi vedo come si devono incastrare o vuoi dire che non sia previsto che si incastrino uno nell'altro addirittura addirittura vediamo potrebbero anche essere elementi singoli non lo so allora prima di aprire questo io mi sono presa questo foglio che adesso iniziamo ad assemblare un pochino alla cieca ho preso il kit essential perché pensavo che potesse essere sufficiente per ma ci sono solo sei carte quindi in realtà se abbiamo tutte queste facciate qui sicuramente sei carte non mi sono sufficienti poi lì ci sono gli icon stickers io mi sono presa i mini icons i ovviamente questi che non vedevo l'ora di usare un doodle pop e i chit chat ma li posizioniamo un secondo qua perché non sono certa che mi bastino e piuttosto cambio il kit essential con il kit di carta intero allora intanto prepariamo la petunia ho controllato anche oggi non è ancora ordinabile lei mi ha detto maggio e quindi ogni giorno noi controlliamo buongiorno ben arrivati intanto che arrivate io mi preparo è perché qua la situation allora qui questa è questa pagina qua che sarà questa qui ok quindi adesso io prendo queste che hanno mi sembra la dimensione giusta oggi gran mal di testa ma è quel momento del mese in cui mal di testa arriva a farsi a farsi dare il buongiorno e quindi va bene c'è per forza allora questi come li attacchiamo così ritengo uno qui e questi li attacchiamo così allora facciamone un pezzo alla volta perché qui mi sa che uno di quelli in cui la salami aveva ragione sarà 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 nasi detta sarà salami e forse non ce la si cava tantissimo senza vedere un loro video ma io ci provo lo stesso pur col mal di testa voi come state allora qui ne abbiamo tre quattro cinque ne manca uno forse qui sono solo due vediamo solo che se io li attacco adesso sul nero no esattamente come faccio poi a rivestire il cartoncino perché se io adesso questi li attacco ovviamente non vedrò più cioè non avrò la pagina intera come l'hanno pensata esattamente questa cosa forse pensano poi di ricavare lo stesso sì probabilmente si taglia solo questo pezzo qua perché questo immagino che sia da incollare così qua e apre questa finestrella proprio a ridosso qua e apre questa qui in realtà magari anche a ridosso qui e questa che messa qua apre in questo modo quindi noi poi avremmo tutto questo movimento qua dovrebbe essere così dovrebbe lo dico con molta cautela tre di qua e tre di qua quindi sono giusti erano sei e non sapevo contare che facciamo li attacchiamo fold pages and glue the edge to create a cascading waterfall e sono questi ed è giusto si attaccano a filo facciamolo senza tanti questi magari mi converrebbe mettere lì di adesivo però perché così faccio un pochino prima facciamolo buongiorno buon pomeriggio buon international scrapbooking day noi festeggiamo con un pochino di sconti che in realtà abbiamo prorogato rispetto a quelli che c'erano abbiamo solo aggiunto i travellerino maggio credo che vadano distanziati sulle linee adesso facciamo delle prove non vi preoccupate prima metto tutto il biadesivo così così e così allora se parte dall'inizio c'è dal bordo io mi ritroverò a dover attaccare questo qui così che si aprirà così e così simuliamo anzi questo posso già anche attaccarlo buongiorno ben arrivati facciamo un albumino pucciosissimo spero con la collezione di doodle bag è un foglio della forti nine allora l'oppiattisco così e lo attacco a filo qua perché l'immagine è così e adesso così posso simulare meglio questo si gira così io dovrò avere praticamente l'ultimo messo così quindi questo mi dà un po l'idea di come devo regolarmi su questo io li metterei non dico a filo un po me un po metà qui sulla linea sulla linea qua è quello che servivano le linee daria ce la posso fare perdonatemi già proprio intelligente da subito no col mal di testa poi sopra come ho messo l'altro teniamo questo metro qui nel senso che l'appoggio così e questa qui ah ho sbagliato riga e sì questa la metto lì sopra è giusto è giusto è giusto complici un po devo dire la verità che un pochino me ne ero dimenticata dello scrub booking day ma poi ho visto tutti i reminder dei vari brand e cose allora va là sono quasi tutti uguali almost e quindi noi poi questa parte qui la rivestiamo tutta qui metteremo una tesserina sono sempre abbastanza convinta che non mi basterà il pad che ho preso perché ha solo sei fogli e quindi poi toccherà andare a prenderne un altro però vabbè adesso poi sistemiamo la giacenza dunque così che in realtà in questo modo qua io non l'avevo mai fatto l'album a cascata devo dire la verità avevo sempre fatto i flappini in dentro questo è un modo diverso che quindi mi insegna anche how to non sono certa di come potremmo assemblare questi tutti questi tre insieme ma adesso ci faremo venire qualche idea c'è tutti questi tre fogli insieme io adesso attacco tutto quello che c'è da attaccare così così sono super veloci sì è il bello un po di questi chittini no sapete che io canto sempre le lodi ok vedete che questi sono pronti da rivestire e questo è uno e abbiamo fatto questo ci mancano questi due allora dunque this one sarà così l'ho piegato al contrario è così è questo qua ok quello centrale e adesso allora è un kit unico federica lo stiamo scoprendo insieme federica perché io l'ho preso per essere un unico cioè un unico kit che poi va composto e crea un unico elemento non ne sono più così certa ma adesso vediamo ci avventuriamo dunque questi tre un due tre questi sono tutti uguali quindi dimensione quindi in realtà qualsiasi tre io prenda andranno bene prendiamo questi tre adesso scopriamo se poi sono agganciabili l'un l'altro sicuramente ho cannato la valutazione della quantità di carta che mi può correre per decorarli perché bellina io ho preso solo il kit essential ma ci sono troppe facciate da coprire e secondo me non mi basta allora stessa cosa di qua quindi piego questi per ora io sto mettendo tutti gli agganci a cascata sui tre fogli diversi che ci sono l'idea è che secondo me devo poi trovare l'incastro per unire i tre fogli si si mi sono mangiata il il biadesivo possiamo anche usare un pochino più largo qua magari si buon pomeriggio ben arrivati voilà oggi confesso che sono stata molto poco produttiva volevo lavorare a delle grafiche ma con questo mal di testa non c'è stato verso quindi ho fatto l'amministrativa di me stessa vabbè ogni tanto allora seguiamo la stessa logica che abbiamo seguito per quelli più piccini quindi uno zinzinello di colla lo piego così e lo attacco qui poi rimarrà il bordino nero della parte ma è carino questo si girerà così e io dovrò incollare l'altro qui così quindi girato così questa parte qui e la riba la ribalto così sto usando l'ho messo nel prodotto contenitore foundation pages si e il 3 9 0 9 8 ve l'ho messo nel prodotto contenitore poi se aggiungo cambio qualcosa ovviamente lo modifico avevo scelto il essential kit ma la consapevolezza si sta impadronendo di me e secondo me non ci basterà cioè non ci basta la carta allora lo allineo qua e lo ripalto e faccio la stessa cosa anche qui adesso casomai lo faccio in corsa cambiare il prodotto così è questo quindi si allinea qui e si ribalta ok c'è un pochino di biadesivo ma per evitare pasticci certo sul bianco è una meraviglia quello che ho fatto però adesso tanto poi copriamo vedete abbiamo creato questo elemento qua e due su tre li abbiamo fatti adesso dobbiamo montare questo che ha le due pagine che si aprano è molto bella l'idea della struttura non ci avevo mai pensato non l'avevo mai vista fare in realtà così però allora quindi questa centrali e sono questi anche questo ovviamente la ple l'ha piegato al contrario non che faccia molta differenza sono tre sono un set di fustelle che ti fa fare le tre apine in versioni diverse chissà se perché è arrivata una scatola aspetta che guardo se ci sono le apine arrivo vi dicevo che ups mi sta facendo un po penare sono arrivati solo un po di scatole non tutte allora le apine avete le basi per fare una due tre questa qui ha quasi la stessa base cambia solo il faccione mentre questa ha questa base qua nera aspettate che la individuo questa qua nera su cui metterete poi il faccione così poi giù appena arriveranno tutti ci faremo il live per le spedizioni in questi giorni sono un po difficoltose buonas tardes come stai allora mettiamo questi che sono facili sono uguali agli altri e poi dobbiamo cercare il modo se esiste di unirli perché secondo non c'è a rigore di logica mi sembrerebbe logico che si possano unire non è detto che io abbia interpretato bene ciao roxana eccoci dunque facciamo facciamo sempre così scusate che allargo la faccina così colla e questo lo mettiamo qua così ok altro foglio c'è altro elemento ciao karen come stai karen è un cliente di vecchissima data che ho rivisto all'evento di tommaso e a momenti non la riconoscevo cioè non a momenti non l'ho riconosciuta ci ho messo un attimo ma bottalico ma quella lì no ah sì sì è lei ah adesso vado a salutarla voilà così per la disponibilità di febbraio mi devono ancora rispondere voilà ma credo che mi risponderanno unedio martedì anche perché adesso ho fatto un altro piccolo ordine per i reintegri e alcune cose nuove che sono uscite e quindi dovrebbe spingere insomma la risposta e questo lo posizioniamo qua arrivo eh di sì così così adesso ci ritroviamo dunque li abbiamo montati tutti e tre fino a qua di fare un corso mio sai che non lo so perché non ho tantissimo tempo per preparare chissà quale progetto potremmo pensare ad un evento in cui ci troviamo lì con degli appiccichini e appiccichiamo una roba super easy e super semplice potrebbe essere il massimo tipo a giugno prima della partenza di tutti per le ferie non lo so ci penso perché me lo stanno chiedendo tanti quel guffetto di marzo piace un sacco anche alla cle allora vediamo questi tre elementi che magari mi sapete dare una mano questo ha la spina più larga anche perché contiene tutta questa roba qua ma questa spina larga così non la posso mettere chissà dove cioè non si aggancia da nessuna parte e questo che mi si chiude così cioè potrebbe essere qua anche questo ha una spinetta piccola a meno che potrebbero essere tre elementi separati ma noi abbiamo queste spinette per unirli e anche se loro nascono separati noi potremmo pensare di forzarli alla convivenza chi lo sa no mi pare di capire che siano separati se sono separati ne decoriamo uno o due perché potrei addirittura se no potrei incollare questo qui e quindi questo si apre qua così potremmo farli diventare uno il potere del trio che coincide col mio e questo a questo punto potrebbe diventare senza anche le spine potremmo sacrificare una facciata e questi diventano un elemento unico qua così vedete loro hanno la spinetta qua che volendo poi si potrebbe rivestire perché io avevo l'idea di mettere questi qui qui dentro ma non ci stanno uno potrei forse forzarlo qui dentro nel senso che lo mettiamo qui però questo non ci sta qui è un po' troppo sacrificato questo si potrebbe anche pensare di infilare qua perché questa spina qua è larga anche se a onore del vero quella spina larga lì quella spina larga lì serve perché le cascate ovviamente prendono spazio allora uniamoli senza queste hinge non so come si chiamano in italiano queste spinette li uniamo facciata a facciata dunque questo qui che è la centrale lo userei come base quindi ne attaccherei uno di qua e uno di qua cosa ve ne pare e poi quindi una volta chiuso però devo fare molta attenzione perché questo qui questo si chiude così questo si chiude così ma se lo metto l'idea no, devo attaccarlo qua in modo che abbia un senso agganci, grazie grazie Giovanna ok, io li metterei così e poi qui creiamo un dorsino una cosa magari con un avanzo di vegetale allora prepariamoci a fare questa operation che non è nata così nella testa del signor del signor della signora Fortinane Market ma noi ci proviamo adesso prendo il computer e cambio il prodotto e mi prendo le 12 carte cercherò di farmele bastare anche se temo che tutte queste forse ci servirà anche il kit i bundle di 25 carte le mie? no, di 25 carte quali ti sono finite? non i bundle di 25 carte forse tu stai parlando dei kit di carte tipo tipo Bazzile Florence non dovrebbe esserne finito nessuno in realtà se mi dici quale lo controllo e lo sposto dai fogli singoli perché tanto li abbiamo tutti così allora aspetta che intanto la clay incolla questo intanto devo prendere magari tengo sia il kit essential quale colore ti risulta finito? che adesso vado a vedere aspetta le carte bianche non ne abbiamo tantissimi in effetti però adesso te ne sposto qualcuno dai aspetta facciamo one thing at a time allora dunque no per carità tu di qua aspettate che mi metto di lato che ci vedo meglio questo ok poi abbiamo detto che questo dovrà chiudersi così necessariamente e quindi poi questo dovremmo cadere su questo aspettate che prendo il pc allora aspettate un attimo che li sposto sicuramente ne abbiamo ancora da prendere dei fogli aspettate solo secondo che li cerco prodotti e sarà anche il caso che mi prenda un kit di carte da 12 perché secondo me quell'essential non ci basta così eh una percezione allora cerchiamo le carte bianche che mi diceva Simona buongiorno ciao Mara allora il bianco mi dicevi vero eccolo qua sì ne posso mettere ancora non tantissimi dunque lasciamo qui 59 150 diviso 25 fa 7 vero ne abbiamo ancora 7 è già andato a meno 1 perché probabilmente l'avete comprato in 2 l'ultimo adesso ce ne sono 6 aspettate che la clay si prenda il kit della doodle bag quello delle 12 carte perché se no se no non li finiamo di decorare non credevo che fossero così tanto corposi quindi in realtà pensavo che mi bastassero le 6 carte che bellina che sono mi faccio veramente tanta tenerezza e come dire allora cerchiamo così healing 150 fa 6 fa 6 quindi in realtà ho sbagliato aspettate che lo metto a 5 quindi perché non so contare perché uno era già andato sotto perché probabilmente avete chiuso due carrelli insieme e diciamo così fatto scusate la matematica d'altro canto ho fatto psicologia allora happy healing prendiamo il pad da 12 carte perché secondo me questo che ho preso non basterà è andato a meno uno si si andà solo nel coming soon link pad nero nel coming soon di cr fill nel caso tu fallo il trovalo per me io adesso ho appena chiuso un ordine però tanto se nel coming soon non era ancora ordinabile per noi ho preso solo ci sono alcune fustelline nuove non ci sono tantissime novità sono più che altro reintegri quelli che ho preso questa volta e i club aspettate che la clay si assicura di non rubare a nessuno questo kit da 12 che ci servirà per decorare tutto questo po' di roba ok effetto a ordine dovrebbe essere a posto allora intanto attacchiamo questo facciamo che mettere il biadesivo qui e poi lo andiamo a prendere il kit perché adesso io li ho incollati subito perché mi faceva comodo rendermi conto di quello che era il tutto ma in realtà sarebbe stato forse meglio decorarli prima tutti e poi unirli però vabbè e questo lo dobbiamo unire qua così su questo allora proviamo a allinearlo bene bene qui ok e abbiamo questo ok questo io lo rinforzerei con un pezzettino di vegetale perché così ho un po' molle e poi decidiamo come gestire il rivestimento perché vedete non sono neanche particolarmente ben allineate perché ovviamente non ho incollato in modo super preciso ma se questa cosa noi la rinforziamo con un pochino di vegetale secondo me ci regge anche un pochino meglio io qui ne ho un avanzo che è un avanzo da un milimetro e mezzo e misuriamo l'altezza sarà un otto e mezzo un otto e un quarto per un pollice praticamente otto e un quarto facciamo anche un pollice un'antichietta una tacchettina così e magari prendo un pezzetto del foglio del nostro foglio di biadesivo che è un po' più potente del biadesivo normale ne avevo un pezzetto qui ma credo di averlo messo chissà dove ne prendo un foglio e mi taglio la porzione che mi serve per rivestire questo così mi garantisco un pochino più di adesività che non si dice un pochino più di resistenza me ne serve praticamente un pollice questo lo taglio con questa questo lo teniamo qui in vista perché l'altra volta che stavo attaccando il dorsino mi sono resa conto che il biadesivo del foglio è un po' più strong su questi materiali che non quello in nastri ributto indietro questo e cerco magari metto anche un po' di colla perché questo è senza perdono questo biadesivo ma non vorrei mai allora guardate è stato più facile del previsto adesso spingo in dentro questo che così si attacca lo tengo un attimo così e abbiamo fatto praticamente una spina più resistente visto che in realtà pare che questi non siano nati anche se non ne capisco il motivo per essere uniti tutti insieme e quindi abbiamo il nostro foglio che diventa questo queste sono importanti queste alette cioè occupano un sacco di spazio sono protagoniste assai ok adesso in te questo bisognerà dovrò poi rimettergli secondo me colle tutto e lasciarlo in posa la notte perché si fermi bene anche l'altra volta avevo fatto così intanto vado a prendere il pad da 12 carte perché mi pare assolutamente evidente che con 6 6 fogli 12x12 in pratica non ci faccio niente anzi credo che mi serviranno tutti e due questo è il kit essential anche perché sono veramente tante le pagine allora più che altro tantissime facciate delle delle alette quindi questo lo mettiamo di qua dunque decidiamo la carta per la copertina una carta neutra che poi magari mi consente di usare un po' dei chit chat perché nell'altro kit c'è anche il nastrino che potremmo usare qua per chiudere volendo decidiamo subito brutalmente che ci servono tutte e due abbiamo una pagina intera 2 3 e 4 5 6 facciate che in pratica ci portano via 6 un quarto 8 per 6 ci porterebbero via 3 fogli se le dosiamo bene 3 fogli sì però poi solo altri 3 non mi basteranno per fare tutte le facciate che devo fare quindi sicuramente apriamo anche l'altro quindi ce l'ho qui dietro lo dico per prenderci il nastrino perché così abbiamo il nastrino per la chiusura e lo dobbiamo mettere adesso ovviamente questo lo posiamo un po' così poi scegliamo le tre carte intere lo facciamo un po' metodicamente tanto queste carte sono tutte meravigliose così possiamo decorare magari ci mettiamo gli ingombri delle frames dunque una cosina così tagliamo così mettiamo questo qui e fermiamo il nastrino con un pezzettino di biadesivo qui e anche dall'altra parte così poi questo verrà nascosto dalla copertura della carta poi magari se il nastrino è troppo grande lo rifiliamo magari lo regalo ok così che adesso mi darà fastidio tutto il tempo mentre ci lavoro va bene allora scegliamo le tre carte che mi andranno a coprire in toto le pagine grandi allora scegliamo una carta per la copertina che mi consenta poi di decorare come piace a me tanto dunque qui ci sono tessere tesserine fiorellini i cerotti allora i cerotti sono nella mia pole position anche questi pua gialli poi ci sono carte che non potrò tagliare anche i dentini sono molto carini allora alla clay piacciono tantissimo i cerotti per la copertina cosa ne pensate perché poi abbiamo tutti gli altri abbellimenti ci potrei mettere una tesserina e una scritta è un get better soon get well soon ho preso il doodle pop se no se non metto questa potrebbe essere una cosa molto più neutra che forse in realtà clay è meglio perché così mi lascia spazio per decorare dite i cerotti se no possiamo usare il get well soon che ci lascia spazio per decorare come la vediamo non ci piace spazio per decorare perché i cerotti sono molto bellini vado con i cerotti mi piace allora intanto allora scegliamo i cerotti per quelle pagine lì la get well soon ne devo scegliere tre e magari i cuoricini con questi fiorellini potrebbero anche essere un'altra bella sono tutte belle non è che c'è niente da allora scegliamo questi fiorellini qua e queste sono le tre pagine intere adesso me le taglio lascio il bordino da mezzo centimetro un quarto di pollice anche perché nella parte dentro dove abbiamo messo questa cosa cascata comunque rimane un pochino di bordino perché poi dovremo tagliare anche tutte queste parti qua e qui sarà divertente fare i conti forse non mi sono scelta un live così semplice adesso che ci ragiono un attimino che sta facendo effettare la medicina allora 8 pollici per 6 vale a dire che devo tagliare 8 pollici in altezza è vero che mi avanzano queste 8 pollici in altezza e 6 qua quindi sfrutto al meglio la carta e quindi adesso non è questa la copertina ma l'effetto è questo che direi che assolutamente assolutamente va bene sì sì dai tagliamole così poi prendiamole e incolliamole facciamo un pochino metodicamente caduto i cerotti sono deliziosi hanno le faccine e 6 pollici e magari mi basta questo io ho aperto quella per avere il nastrino va bene allora 8 pollici e 6 pollici e intanto distribuiamo queste se li avessimo lasciati singoli avremmo avuto almeno altre 2 4 pagine perché sono quelle che abbiamo incollato per rendere tutta una struttura unica quindi cerotti io adesso per velocizzare faccio con la colla e lo metto più o meno centrato le copertine le faccio uguali quindi davanti abbiamo i cerotti e dietro avremo i cerotti sono deliziosi ma ne hai visti gli stetoscopi Simona nei paffi stickers cioè sono pucciosissimi tu sei stortissimo ok ok poi la prima pagina bianca ce l'abbiamo qua non è successo niente respirate respirate nel sacchetto questo sarà più difficile ma ce la facciamo ancora niente 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 fatto tutto rimediato tutto non è successo niente 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 che adesso finché lo vedete vi piglia uno stupo non so scusate io che sia il contrario ma ho rimediato adesso è tutto a posto è tutto dritto ci guardano ci sorridono si 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 adesso aspetto che vediamo quanti spettatori rimangono dopo questo momento tutto bene questo è un po' stortino ma lo lasciamo così quindi apriamo e abbiamo fantastiche due cascate la prima pagina bianca che ci ritroviamo è qui e ci metterei questa e qui dietro ci metterei questa e quindi qui farei in modo che si specchiasse con questa che è sempre un effetto carino non è successo niente siamo riusciti la colla ci mette un po' alla fine alla fine ho messo i cuoricini la colla ci mette un po' ad attaccarsi e quindi abbiamo avuto il tempo di porre rimedio a una piccolissima disattenzione strappato divelto proprio ma che ne sa la ceretta ecco non è successo niente ci vorrebbe la germanella che canta per intrattenerci ma va bene voilà e questa è a posto paginetta qua depilazione esatto ma che ne sanno così e vabbè aspettate che qua nero su nero è anche difficile vedere se stai centrando la pagina poi così più o meno di proposito certo certo posso continuare a vendermi così ma e poi questa quindi qui qui potrei anche decidere di mettere le pilloline però sono così carine mettiamo queste non è successo assolutamente niente di grave abbiamo posto rimedio avrò perso un tot di spettatori nel mentre ma per movimentare un po' di ok fatto ok e ci siamo adesso ci rimango io taglierei qua ho già fatto danno allora queste qui sono 4x3 saranno sì quindi devo farle se voglio lasciare il bordino nero un 3x3 3x4 per 2x3 e me ne servono 2x4 6x8 10x12 24x4 aiuto dunque facciamo un po' di conti di 3x4 in un foglio che adesso prendo due diversi che non abbiano un verso che è difficile perché le carte che sono rimaste tengono tutto un verso allora non abbiamo tanta scelta possiamo poi gettarci sul perché anche i dentini hanno un verso potremmo fare metà allora no i dentini no usiamo i coricini un po' degli avanzi delle pagine sì ma mi servono per esempio anche per queste qua e poi ho anche tutte queste da mattare quindi in realtà diventa difficile devo cercare di usare quanto meglio possibile tutta la carta che ho a disposizione cercando di usare quelle che non hanno un verso quindi potrei usare i fiori di qua senza grossi problemi e ne posso tagliare metà e l'altra metà potrebbe essere di qua con i pua questo posso usarlo tutto per esempio e mi abbiamo detto che ci servono due fogli mentre anche questo posso usare no posso usarne metà perché ho questa parte qui che non ha un verso e quindi fare tutto quel pezzo lì ma tutto l'altro pezzo potrei farlo tagliando metà di questo allora queste li faccio metà e metà se li giro dici di modo da metterli dritti cioè tagliarli così potrei anche fare così che mi faccio che spreco meno carta facciamo così allora facciamone uno i denti o altri ci provo ci provo allora iniziamo facciamo una prova con questo che usiamo fronte e retro per questo qua proviamo noi abbiamo bisogno tre tre quarti qua tre tre qua e i cuoricini lo so li tagliamo dall'altra parte tre tre quarti e tre tre quarti perché lasciamo il bordino nero perché c'è anche nelle altre nelle altre pagine cercando di ottimizzare la carta nel miglior modo possibile mi è venuta potrei adesso vediamo un attimo allora così e così e ne ho quattro adesso facciamo una prova questo praticamente mi coprirebbe fronte e retro uno dei due elementi a cascata e potrei in realtà anche pensare di fare tutti e due uno quello sopra quello sotto con il davanti questo oppure invertirli adesso vediamo ma usando la stessa carta allora questo lo sto facendo unicamente per cercare di sprecare meno carta possibile quindi il ragionamento che ho fatto è adesso io metto tutti questi così così e adesso qua insomma non si vedranno finché non li ho attaccati così ok qui sotto lo facciamo con gli stessi fiori così e matchy matchy o usiamo il retro di questa stessa carta e poi ovviamente per i retri facciamo altro oppure potremmo anche alternarli uno e uno tipo così potrebbe anche essere molto carino uno e uno forse mi piace di più e poi scegliamo un'altra carta per fare i retri questi questi li incollo quindi uno e uno no non cadete non potete cadere allora alternati secondo me sono molto carini quindi poi dobbiamo tagliarci anche dagli avanzi queste striscette qua però abbiamo fatto talmente in fretta a fare la struttura che non saranno certo le striscette da tagliare che ci rallenteranno che il sabato mattina 9.13 e niente abbiamo lasciato non avrei più comodo per i b e vabbè e noi rimaniamo sempre qua così ah Patrizia la stagione delle tasse è iniziata non me lo dire non me lo dire tu ho perso il ritmo giallo così questo bellissimo benefit delle partite iva ma non solo delle partite iva fiori qua e qui qua oh guardate che bellino è molto carino il retrato facciamo la stessa cosa anche di là e manteniamo la stessa logica anche per le altre cascate che ci sono ok così e quindi adesso anche questi li sistemo nello stesso modo magari cambio l'ordine rispetto a quello che abbiamo fatto lì e inizio col pua tu sei un po' ok allora iniziamo col with the pua così fiore queste striscette invece le tagliamo poi tutte alla fine qui ho sbordato un pochino con la colla eh per forza sennò poi viene un pastis pua fiori fiori pua e fiori adesso scegliamo il secondo foglio con cui faremo i retri di questi e intanto magari iniziamo a vedere perché dagli avanzi di carte che abbiamo possiamo sicuramente ricavarci questi due che saranno dei 4x6 a questo punto quindi potremmo avere per esempio queste tre carte che abbiamo già usato potremmo avere mascherina cioè le fascette delle bende cuoricini o pastiglie ci servono delle cose un pochino neutre potrei usare la stessa carta di modo che poi sia decorabile usiamo questa ok queste poi sono fisime mie insomma non è che sia obbligatorio facciamo sempre tre tre quarti perché mi lascio lo stesso spazio di margine e quindi cinque tre quarti anzi no sei perché no cinque tre quarti giusto per gli altri li ho fatti sei sì no dovrebbe essere giusto è un sei un quarto è un sei dovevo lasciarlo a sei vabbè magari dritto questo lo lasciamo un pochino più grande mi è caduta la taglierina si è svoltata se vi dovesse mai capitare basterà semplicemente riagganciarla con i perni qua e qua prima volta che mi è successo mi è preso malissimo poi ho capito che non succedeva niente e via bene incolliamo adesso mi servono due fogli per fare i retri e questo è fatto chiudiamolo solo un secondo i retri mi servirà in realtà un foglio solo possiamo mettere i dentini anche se forse i dentini sono un po' sprecati lì possiamo usare questi cuoricini i dentini li mettiamo magari sulle fascette più grandi che si vedono di più tutto questo fascettume lo teniamo perché ci servirà per fare le matature delle fascette allora sempre tre e tre quarti diciamo che avendo la struttura fatta anche se io ci ho messo un po' a capire insomma com'è i tre quarti del lavoro sono fatti noi adesso stiamo tagliando le carte per decorarlo tutto e poi in realtà rimane solo da fare la decorazione quindi cioè questi fogli sono veramente fantastici due e tre quarti ma anche per chi è esperto perché risparmiano un sacco di tempo ci danno tra l'altro delle idee fantastiche avete visto come fare la cascata io non l'avevo mai vista prima questo modo di fare la cascata negli album e invece è furbissimo e due e tre quarti e adesso incogliamo i retri dunque facciamo come abbiamo fatto di là che qui alterno uno e uno sì senza pensarci troppo qui iniziamo con i cuoricini righe certo che in realtà ma noi magari le mattiamo queste ma non stanno male neanche nere no? cosa ne pensate? secondo me sono deliziose anche nere perché riprendono la struttura della copertina quindi righe cuoricini qui qui ce ne servirà un'altra e da lì dovremo prendere in realtà da un altro avanzo di carta perché è fuori dal conteggio che abbiamo fatto per mattare la cascata adesso finiamo di mettere questi tu di solito lasci il retro senza mattature che sono quelli bellini non so ne se lo regalo forse addirittura è un po' un peccato decorarlo perché magari poi uno se lo decora no? adesso vediamo finiamo di finiamo di sistemarlo e anche secondo te stanno bene senza sono così carine queste righe tene c'ho queste fascette nere lì che sembrano quasi fatte apposta volute no? righe coricini coricini righe e coricini e anche qui abbiamo lo spazio praticamente per una tesserina 3x4 che mi fa pensare che potremmo quasi prendere il foglio delle tesserine e usarlo no? guardate che bello che è l'effetto alternato carino vediamo vediamo un attimo il foglio delle tesserine che c'è sempre che cosa ci offre ce ne servono due in verticale cioè quante vogliamo prendiamo queste due qua per esempio o queste due qua e le mettiamo semplicemente lì che così abbiamo concluso questa parte qui e ci dedichiamo a tagliare il resto allora con le mattature dici con queste fascette qua mi sembrava così carino il dettaglio del nero che sbuca fuori essendo che ho lasciato lo spazio nero di mattatura sulla struttura adesso comunque vediamo io non sto buttando via le fascette quindi così e facciamo un attimo di prova sì forse andava meglio colorata qui però va bene buon pomeriggio ciao germanella ho già fatto un po' di disastri c'è stato un punto in cui avresti veramente patito molto però è passato dai tutto bene tutto a posto fatto poi questa parte qui ovviamente la decoreremo vediamo come giriamo e abbiamo queste mattature qua che saranno anzi no dov'è che ce le dobbiamo aprire qua dobbiamo aprire eh non è che abbiamo finito allora di queste ne abbiamo uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici quindi ci servono ventiquattro sei per quattro considerando che in un foglio ne vengono sei ci servono quattro fogli allora è impegnativo meno male che abbiamo anche l'altro kit ritagliamole e facciamo lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima quindi io le taglierò in questo senso qua e alternerò fronte retro laddove possibile allora misuriamole che io ho dato per scontato che siano dei sei per quattro ma come dire la mia stima quattro quindi tre tre quarti per sei perfetto quindi posso tagliare è enorme sì 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 infatti non mi basta il pad che avevo preso inizialmente allora tre tre quarti tre tre quarti ce ne servono quattro scusatemi quattro di fogli striscietta cinque tre quarti e cinque tre quarti così e cinque tre quarti chissà se nel folio cioè nella confezione dell'essentia c'è questa stessa carta c'è che così facciamo tutta una ci sono tutti i dentini cioè tutta la stessa carta non so se avete capito che cosa intendevo un po' contorto ma i dentini visto che le ho tre e tre quarti anzi potrei tagliare via in realtà mezzo mezzo pollice di qua che così poi le faccio un taglio solo sì allora tre e tre quarti e lì ho tagliato male ma dovrei farcela lo stesso e poi cinque tre quarti queste le mettiamo insieme e questo mi rivestirà fronte e retro perché la carta me lo consente uno di quei due elementi a cascata adesso mi servono altri due fogli per fare la stessa cosa dall'altra parte quindi in realtà posso scegliere anche dei fogli che non abbiano necessariamente il fronte e retro utilizzabili ma di cui almeno uno dei due sia utilizzabile potrei usare in realtà questo che è super delizioso e magari le striscette però ci sono dietro le tesserine però questa qui ce l'abbiamo anche di là vero? sì oppure potrei usare due di queste che tanto ce l'abbiamo e sono molto carine che diventino fronte e retro oppure i pua non so che fare in buona sostanza mi piace molto questa dai facciamo queste due cerchiamo di usare meno carta possibile se poi lo regalo se poi lo regalo darò insieme gli avanzi adesso vediamo tagliamola 5-3-4 tagliamoli via mezzo pollice che così poi devo fare un taglio solo questa è pigrizia 3-3-4 3-3-4 3-3-4 3-3-4 facciamo qua il coso è carino molto le strisce le vogliamo in orizzontale o in verticale? siccome il coso è in orizzontale io le taglierei così no però se le voglio in orizzontale devo tagliare aspettate mi sto confondendo fatemi tagliare via la cimosa devo tagliarlo qua via mezzo pollice voilà così così e così e magari queste anche le altre foglie le possiamo tagliare insieme secondo me 5-3-4 e adesso li andiamo ad incollare questo non ho fatto il doppio passaggio e ovviamente speriamo di tagliare bene nello stesso punto sì dai mi piaceva che inciccionissero un pochino dai allora prendiamo il nostro foglio e noi siamo arrivati in questa parte qui questa parte qui dentini ah però se poi lo giro ci sono i cuoricini mettiamo queste in questa parte qua guardate l'idea è questa così però mi basteranno sì per forza allora faccio prima tutti i front eh però tutti i front abbiamo detto di farli tutti uguali quindi beh alterniamoli no 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 è giusto è giusto mi stavo confondendo da sola scusatemi così così qua ci mettiamo questo qui ci mettiamo queste scusate ma nero su nero ogni tanto mi perdo via qua fatto righe e facciamo adesso alternando i retri che potrei anche fare con i retri così perché mettiamo i dritti perché la carta con le righe ha dietro le tessere quindi non posso girarla così intanto ricordo che è arrivato adesso che questo weekend abbiamo riattivato gli sconti del del ponte qualcuno mi aveva detto di non essere riuscito a finire di fare acquisti e via discorrendo e oggi che è l'international scrub booking day abbiamo riattivato anche la categoria in sconto al 50 dei nostri prodotti più vecchi quindi sul sito ho trovato una sezione in sconto al 75 una sezione in sconto al 70 e i nostri prodotti alcuni di quelli più vecchi in sconto al 50 e in più con gli ordini da 45 euro oltre ad avere in omaggio la fustellina del mese avrete anche la possibilità di scegliere uno dei nostri due traveler di quello più nuovo non ce ne sono tantissimi però mi sembra che stiate scegliendo di più quello più vecchio magari non ce l'avete insomma era quello meno questo è stortissimo però facciamo finta di non aver visto niente ah no vabbè non importa questa non è alternata ah no no questa non va bene così ho messo la mi sono distratta no cerchiamo di rimediare come rimediamo portando via un po' di colla e poi con la polverina antistatica ma siete stati in diversi sai pensavo di aver fino un po' rotto le scatole con gli sconti che sono durati veramente tanto però dato che comunque questo fin di settimana avevamo bisogno di una cosa tranquilla da fare è stato bene accetto il suggerimento allora una tesserina 6x4 ce l'abbiamo mica nel foglio delle tessere fatemi vedere un attimo no facciamo solo tesserine grandi forse in quella che ho che ho tagliato vediamo qui vediamo un attimo nel foglio nel foglio questo ma non ce ne sono 4x6 quindi dobbiamo tagliare due avanzi di carta in realtà adesso per ora uno ci mettiamo le mascherine magari per coprire questa parte qua adesso quello decorato si vede che è un pochino stortino vogliatemi bene lo stesso adesso tagliamo questa allora questa la lasciamo 4 pollici per 6 dovrebbe essere giusta sì perfect ok poi questo e abbiamo questi che andiamo ad incollare così uno da una parte uno dall'altra adesso faccio prima tutte le parti con i dentini io metterei i dentini cosa ne dite certo che in realtà cromaticamente ci starebbero meglio questi adesso non so che fare i dentini mi piacciono tantissimo potremmo iniziare con i cuoricini e mettere sotto i dentini così faccio felici tutti e due dai facciamo così vado così in realtà potrei anche già incollare questo si no dai alterniamoli che così si crea l'effetto cromatico più carino qui ci mettiamo i cuoricini adesso mi confonderò sicuramente i dentini i dentini facciamone uno alla volta che la classi confonde che ha già una certa poi sono i cuoricini è difficile questa cosa cuoricini dentini adesso finiamo di fare i retri così così cuoricini quella fustellatrice nuova ma a voi piace la lilla vero dobbiamo aspettare per capire se ne avanzano e se possono mettercele ordinabili giusto perché a voi è quella lilla che piace se non ho capito male recuperiamo questo e mettiamo i cerottini qui dal lato giusto ma mettiamo i cerottini vuoi che forse abbiamo finito? sì allora ci manca questo dunque siamo a questo punto nel senso che qui abbiamo tutto questo purpurri di cascade qui abbiamo pagine libere questo si apre così e abbiamo quest'altra cascata molto grande io le lascerei libere quelle nere che sono meravigliose così mi da un bel no vabbè è meraviglioso sicuramente non era nell'idea del signor doodlebag unirli così ma a noi siamo un po' anarchici questo allora dirvi se mi sarebbe probabilmente ci sarebbe bastato il pad grande anche se avremmo un po' rovinato alcune delle carte perché non sono proprio utilizzabili una dalla parte una dall'altra allora di qui dobbiamo tirare fuori un dorsino qui abbiamo i cerotti se mettiamo i cuoricini che sono storti no possiamo mettere i fiorellini oppure no questa non è abbastanza grande che tagliare tagliare una carta apposta per vabbè ho questa che abbiamo tagliato anche se è veramente sacrilegio tagliarla per un no no dai usiamo i fiorellini anche se anche i fiorellini sono al contrario perché i cuoricini in realtà hanno quel verso lì mi state mettendo in difficoltà con queste robe e vabbè tagliamo un pezzo delle tessere tanto ne abbiamo due allora questo è un pollice un pollice un'antichietta per otto e un quarto mi sembra sì a quadretti alla mia destra non mi basta non mi basta perché sono tutti gli avanzi dei tagli che abbiamo fatto tagliamo un pezzetto di questa anche se è un peccato però ce l'abbiamo doppia ci sentiamo ragionevolmente protetti allora un pollice un'antichietta per più o meno otto e venti otto e un quarto di altezza che sono più o meno venti ventuno quasi ventuno questo lo copriamo a vivo perché è un è un pezzettino di vegetale che ho messo solo per dare un pochino più di struttura ai dorsini che non erano stati pensati sicuramente per essere usati così ma noi abbiamo fatto anche in questo caso un po' gli anarchici allora possiamo decorare ragionevolmente no? quindi fatemi tirare fuori un po' gli appiccichini che avevo opzionato qui ci sono i stickers c'è l'alfabeto allora io vorrei trovare qualcosa di abbastanza grande da mettere qui non ho finito gli ingombri potrei usare le cornici per creare degli spazi per le foto ho solo un po' timore dello spessore quindi in realtà cioè forse le metterei qui ma per esempio qui dentro mettere spessori di foto mi sembrerebbe un po' troppo allora apriamo questo che è un po' grandino e piuttosto se lo regalo lascio lo spazio nei flap da decorare perché da mettere la foto da decorare perché se ci metto lo spessore della cornice anche se è un cibor sottile comunque sono 6 mm in più non si chiuderà mai più vediamo tra questi cicciat grandi che ci sono emergency ouch recovery speedy recovery surgery no mi servirebbe un'immaginina anche se potrei ritagliare una tesserina metterla centrale vediamo il foglio delle tesserine che ho tagliato poc'anni una cosa che ci potrebbe stare bene thanks for caring questo magari no sorry you're under the weather being under the weather essere under the weather significa essere in un brutto momento sotto la pioggia per dire che sei in un momento un pochino spiacevole di difficoltà potrei prendere questa tesserina qua metterci sotto una scrittina grande qualche decorazioncina e siamo a posto questo emergency mi piace tantissimo ma è un po' un po' strong forse braces questo è l'apparecchio you got this hospital no vabbè è bellissimo no vabbè allora io tirerei fuori questa la spessoriamo che così esce bene fuori adesso la taglio se no se no di qua you'll be back on your feet in no time you got this somebody's thinking of you no dai mettiamo mettiamo la tesserina che avevamo individuato prima allora così allora dicevamo la spessoriamo un pochino addirittura in questa potrei prendere una delle mie cornici perché è un 3x4 e quindi renderlo ancora più cornice vediamo se ne ho qualcuna qua questo questo dovrebbe essere qua così toglie via troppo dell'azzurro non mi conta più quindi la spessoriamo così com'è mettiamo un pochino di spessorato così me l'ho dato anch'io prendiamo appuntamento insieme allora così così e così e questo adesso che lo metto lì starà perché non si sposta più oppure vediamo sti ci sono i punti nurse healing c'è anche un happy happy healing perché se hanno messo healing la collezione si chiama happy healing non c'è un happy healing mi deludi così mi stai diludendo ma davvero non c'è un happy healing dunque no forse non è previsto no nurse hospital visit better love you non c'è un happy per fare l'happy healing quindi questo lo incolliamo ma guarda Sabrina sai che nei primi tempi in cui avevo in cui ho iniziato a portare prodotti per scarbon quindi quando abbiamo aperto questa attività non era tra i brand che faceva impazzire neanche me lo trovavo un po' troppo bambinesco poi un Natale hanno fatto uscire una collez 2019 hanno fatto uscire una collezione con uno yeti viola e basta la mia resistenza è stata assolutamente annientata lì un bannerino non ce lo vogliamo mettere a trip to the dentist doctor you got this levo un bannerino vediamo one day at a time un giorno alla volta good days ahead dai bei giorni a venire devono arrivare dei bei giorni dei bei momenti e questo è il senso gli mettiamo un po' di spessorato qui che ci possiamo un po' sfogare ok e qui allora la mia idea è di non decorare tanto qui perché se lo regalo è un attimo che mettendo la foto due appiccichini non c'è più spazio per niente io vorrei mettere questo doodle pop collocarlo prima che mi si riempia tutto vediamo dove possiamo metterlo che stia meglio perché lui in realtà è così quindi potrebbe essere qui qui possiamo giocarci una cornice lo mettiamo nell'angoletto qua qui ci giochiamo una cornice grande e decoriamo qui abbiamo lo spazio perché è all'interno della struttura abbiamo un pochino la letterina get well soon è bellissima e adesso dovrò spostarla per centrarla così ok e la incolliamo e questa la mettiamo qui sotto la foto quindi è assolutamente mettibile tiriamo fuori adesivi io li trovo splendidi quindi ci metto un pacchettino di fazzolettini qua apriamo i paffi è uno stetoscopio che mi piace proprio tanto cioè lo trovo delizioso e quindi lo metto qua vicino e qui ci mettiamo poi un bannerino warrior looks good on you ti sta bene l'aspetto del vestito del guerriero insomma quando si affrontano certe cose si spera sempre di non averne bisogno ma siamo tutti un po' guerrieri in fondo quando attraversiamo questi momenti è il momento in cui il guerriero in noi fa capolino in maniera più purtroppo più forte si spera sempre che non lo si debba incontrare il guerriero che c'è in noi ma capita sending positive vibes too much questo qui non possiamo giocarci grandi spessori allora mettiamo qualche decorazioncina qui che altrimenti rimane un po' poverello lascio a questo punto non metto altri ingombri perché sono troppo sono troppo spessi cerco però di rendere gli appiccichini meno invadenti possibili che detto da me suona veramente come un'idiozia però vedete qui ho messo la colla solo da un lato cerco di renderlo un pochino più fattibile poi decorare il tutto se darò via appunto questo albumino ma penso che lo regaleremo su queste paginette almeno un faffi qua guardate sono proprio meravigliosi questi cerotti come si fa due striscettine qualcosina cerchiamo di mettere wishing you the best lo mettiamo qui sotto e metto un punto di colla qui e un punto di colla qui di modo che poi eventualmente la foto possa essere mettibile sotto allora lo metto poi online se riuscisse a prenderlo un infermiere un infermiere un medico insomma chi vive quotidianamente queste realtà sarei contenta per la fattura assolutamente hai ragione qui ci mettiamo uno di questi no beh io potrei andare avanti a riempire tutte queste pagine però non è opportuno anche se questa limitazione negli appiccichini che posso mettere è un pochino vabbè magari qualcuno così un po' qui un po' lì li metto dai proprio pochini pochini ma giusto per per metterci un segno è perché comunque non resisto davanti a tutto questo appiccichini tudini cioè è un po' una violenza guardate facciamo in modo che sia visibile un pezzettino neanche su tutti perché poi magari non è la pastiglietta sono un amore mi piace molto and sending lots of love i paffi sono stupendi sì allora anche qui metto due punti di colla qui sotto così eventualmente se ci vorranno mettere una foto potranno inserire la foto stessa cosa qui il bannerino un po' il bianco si perde se ne trovo uno colorato meglio on the road to recovery sulla strada della guarigione anche qui ma qui posso mettere la colla tranquilla lo metto qui sopra e metto qualche decorazioncina ai lati mi limito per quanto possibile nelle decorazioni proprio in virtù del fatto che non ho le foto non sto mettendo degli ingombri perché diventerebbe troppo pesante cioè troppo spesso e siccome lo regaleremo lasciamo che sia poi la persona che lo riceve a decidere cosa metterci e come decorarlo qua così foto qui 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 abbiamo un altro spazio per la decorazione scusate lo chiudo così solo perché entri meglio nell'inquadratura qui io quasi quasi un nostro ingombro lo metterei magari uno di questi mettiamo anche questo questa collezione è deliziosa se pensi che tratta comunque un argomento un pochino delicato poi è ovvio che magari per i bimbi può essere il gesso magari si è rotto un braccio una gamma che è grave ma non gravissimo ma noi siamo quasi tutti adulti e a molti di noi sicuramente queste immagini seppur tenere pucciose evocano battaglie diverse per tutti noi io dicevo prima ogni tanto dobbiamo trasformarci nei guerrieri ma la delicatezza e la pucciosità con cui arriva questo messaggio secondo me fa proprio un po' bene al cuore ogni tanto ci va allora dunque che scrittore buhù questa qui ci mettiamo un pochino di biadesivo qua io avevo ah qui poi ho il masuglio anche degli altri io avevo i miei tondini guardate mettiamo due tondini qui così non danno fastidio prendiamo un po' di questi bannerini qua everything is gonna be alright si metterà tutto a posto come storto ma storto tanto tutto andrà a posto bisogna sempre crederci tanto stare lì a piangere serve a poco anche se serve anche quel tempo lì a mio avviso in inglese si dice to be miserable per compiangersi ogni tanto ci va anche quel pezzettino di quella robina lì prendiamo una scrittina nurse feeling the love a trip to the dentist I can do this un bannerino che ci starebbe molto bene surgery no questo è rosa vero no sending lots of love voilà così e poi cerchiamo di decoricchiare senza essere troppo invasivi nello spazio dedicato alla alla foto così lì la foto si può sempre mettere io quasi quasi possiamo metterci un camice qua qua si dai e qui invece allora deadesivizzo tutto questo che è uno sticker con la polverina antistatica vorrei metterlo qui metto un tondino qua in questo modo questo lo attacco fuori dalla foto e questo rimarrà sospeso quindi la foto si potrà mettere senza nessuna difficoltà ok poi questo è il retro va bene dobbiamo pensare a se decorare qua ora queste pagine sono già molto colorate quindi in realtà bisognerebbe veramente aspettare di avere le foto io metto un po' di decorazione qua e là nei retri o quant'altro usando sempre la tecnica pensando che poi ci si debba attaccare altro quindi cerco di essere meno invasiva possibile è giusto perché voglio appiccicare ancora cosina perché sono delizioso no tu sei diventato stortissimo non era così che dovevi essere la borsa dell'acqua calda poi la cassettina del primo soccorso e abbiamo questo spazio qua sembrava sembrava che ci fosse un altro doodle pop però forse me lo sono sognata qui ci possiamo mettere questa radiografia dello scheletrino che è super deliziosa doctor o recovery recovery dai magari qui possiamo poi aggiungere un bannerino che può essere messo qua metto un punto di colla qui sopra di modo che sia poi spostabile al bisogno cioè spostabile ci si può inserire qualcosina anche i lati se si vuole e due cerottine così io non starei a decorare queste parti qui perché secondo me poi tolgo troppo limito troppo la possibilità di inserire le foto ma vediamo un attimo tu non ti vorresti chiudere non mi puoi dare questa notizia siamo un po' on the verge of the limit siamo proprio un po' al limite allora dunque fatemi raccogliere queste cose lo mettiamo subito online quindi se volete provare a prenderlo adesso lo carico in diretta sarebbe carino se riuscisse a prenderlo un infermiere un medico oh feeling the love vogliamo non metterlo troviamo un po' qui un puntino di colla e un cuoricino questo è avanzato dal kit di ieri è cicciosissimo ciccionosissimo va bene allora dunque domani credo che farò uno o due globe della doodle bag con le collezioni o di marzo aprile magari vediamo per capire se può essere un progetto che posso fare magari con gli avanzi avanzi di aprile non ne possiedo ancora quindi è difficile ma posso aprire quelli del kit anche perché in realtà la decorazione del globino è proprio piccina non c'è tanto però due appiccichine due cose adesso vediamo non ho ancora deciso benissimo ma l'idea è di iniziare quel progetto lì e magari insieme facciamo la car per tutto l'anno di aprile che così è fatta potrei fare per esempio anche lo yoga degli apiccichini no l'idea l'idea l'ho già fatto perché farlo di aprile non ho ancora gli avanzi potrei crearne degli avanzi vediamo domani mi studio cosa fare cerco una cosa un pochino veloce che così poi non faccio troppi pasticci e confesso uso il resto della giornata un pochino per riposarmi confesso assolutamente spudoratamente allora vediamo questo di metterlo subito online ah eccolo qua questo me lo sono proprio persa questo era l'altro doodle pop che c'era nel sapete che io ho usato sia il pad di carte 12x12 che il che l'essential perché c'era tanta carta da utilizzare per i rivestimenti avevo paura che non mi bastasse in effetti siamo andati ce ne abbiamo usata tanta ma questo lo mettiamo sul retro ne abbiamo usata tanta ma secondo me è andata bene così ok allora mettiamolo online così lo facciamo insieme allora dunque prodotti adesso lo sistemiamo così vi faccio arrivo eh aggiungi nuovo allora mi allora folder doodle bug happy healing omaggio arrivo eh completo solo tutti i campi ovviamente lo mettiamo a zero ehm folio doodle allora così vediamo subito ovviamente ce n'è uno solo online non le ho decorate le pagine con i dentini perché ho paura poi di togliere troppo spazio ah no abbiamo ancora tutta questa pagina qui adesso lo facciamo intanto vedi ah che gioia che mi dai qui abbiamo ancora spazio intanto l'ho messo online cioè sta andando online però c'è un attimo di rallentamento perché c'è tanta gente sul sito mi dice analytics ce n'è uno solo portate pazienza appena lo assegniamo decoro questa perché ho dimenticato tutta questa pagina qua dove invece quel capicicchino posso metterlo vediamo chi se lo aggiudica spero che se lo possa aggiudicare un infermiere un dottore insomma poi chiunque vada io sono contenta se qualcuno adotta le cose che faccio durante i live a me fa sempre piacere perché non sono precise non sono super belle quindi insomma è un è un super complimento che lo vogliate che vogliate adottarlo ecco uno dei miei progettini dunque vediamo dovrebbe essere online sono tutti sul sito che è un gran complimento per me perché adesso poi decoriamo questa pagina così e qui mettiamo due piccichini due cosine l'ho proprio dimenticato se c'è un rallentamento sul sito allora è stato acquistato vediamo da chi Alessandra oh sono contenta quindi va in Sardegna bene voilà decoro questo perché è una mancanza incredibile mi sono proprio dimenticata qui qui ci sta una foto assolutamente guardate ne mettiamo anche una grande che così sfruttiamo che bellina io ho già chiuso tutto voilà guardate fotina qui spero che si chiuda lo stesso mi fa sempre piacere quando adottate le cose che faccio nei live perché sono tutte forché precisi e quindi insomma mi sento lusingata allora mettiamo mettiamo qui questa bottiglietta no qua un po' si confonde mettiamo questa arancione qui sotto e prendiamo una scrittina o qualcosa insomma da qui all better now va tutto meglio emergency taking one day at a time sempre sending happy thoughts ti mando dei pensieri positivi così un po' non copriamo il faccino c'è qui anche il mazzolin di fiori che deadesivizzo di modo che si possa mettere poi la foto ho deadesivizzato la parte che va sulla foto così ho ancora un pochino di adesivo che me lo fa attaccare tu stai buono lì tu non ti sei attaccato perché non ti ho messo la colla bimbinello come potevi mai attaccarti così qui metterei guardate la borsa del ghiaccio sono deliziosi vabbè così e poi mettiamo qualcosina qui non esageratamente nel senso che non voglio che diventi troppo decorato perché altrimenti il regalarlo è inutile perché non ci si può aggiungere altro quindi devo assolutamente contenere la mia voglia di appiccicare che è difficile lo sapete però un cerottino qui non potrà mica fare male anche un cerottino qua questo è storto lo so lo so l'ho visto adesso così e così easy easy peasy è difficile per me è difficile lasciare non decorato però ci provo mamma mamma scusate ho sentito un rumore vado a vedere niente ladri tranquilli così ho faked up è tutto a posto colla solo qui così oh cerco di non qui ci metto un tondino cerco di non farli incollare storti ma facendo in fretta ah qui potremmo mettere qualcosa di un pochino più grande andiamo una scrittina le parolacce che ti dicono quando ci si fa male mettiamo le parolacce che è carina come cosa la mettiamo qua un po' si perde però meglio questo qua perché non l'ho chiamata madre si hai ragione stavo entrando da sotto mi è preso un po' guardo troppo true crime dovrei smetterla sì mi rendo conto ok adesso dovrei aver fatto tutto rimetto questi dentro Alessandra ti mando anche questi avanzi che così puoi finire di decorarlo poi ce lo fai vedere se metti le foto se ti va io lo chiedo sempre ma non è obbligatorio così così le ho messe sotto sopra così erano ancora più parolacce erano ancora più censurate allora chiudiamo questa e puliamo bene questo oggellino qua dunque lo rivediamo un attimo allora folio della 49 in realtà forse questo folio non era pensato per essere usato come l'ho usato io nel senso che erano tre pagine distinte ognuna delle quali portava degli elementi a cascata all'interno del folio c'era tutto il necessario per montarli non bisognava aggiungere nient'altro sono poi ovviamente la mattatura della carta io li ho uniti quindi unendo le due facciate e quindi sono diventati un libercolo un mini album ho usato sia l'essential kit che il pad di carte perché c'è effettivamente tanta carta da usare per mattare tutte le parti e tutte le i flap delle cascate probabilmente avrei potuto in realtà usare solo il foglio da 12 sacrificando alcune tessere o alcune cose dipende un po' dalle carte che usate se usate per esempio come base delle tinta unita potete anche gestirlo in maniera completamente diverso non abbiamo ancora deciso la data appena possibile appena lo decidiamo poi ve lo comunico quando lo facciamo adesso poi lo facciamo di decidere la data intendo io l'ho decorato con ovviamente appiccichini ecco ho preso i cecciat ho preso i paffi ho preso gli sticker non ho inserito gli ingombri delle foto l'ho messo online quindi è stato preso anche perché in realtà qui se avessi aggiunto lo spessore degli ingombri delle cornici avrei poi avuto delle difficoltà a chiudere quindi preferisco che chi lo riceve ci metta le foto e poi finisca di decorarlo voilà e lo so ci ho pensato Alessandra infatti quando ho visto che l'hai preso tu mi si è scaldato un po' mi ricordavo quindi insomma ognuno combatte le battaglie che non necessariamente sono proprie quindi sono contenta che sia finito a te c'è tutto questo popò di roba da decorare International Scrab Booking Day il popò di roba e non mi potranno dire che uso troppo l'inglese quel popò di roba questa è l'aggiuntura del secondo folio questi sono tutti storti Alessandra tanto storti però infatti col cuore qui c'è un sacco di posto dove mettere foto per finire di decorare foto foto qui ho messo le nostre frames questo è il primo set non sono le polaroid però giusto per poter mettere un po' più di appiccichini perché se c'è l'ingombro è più facile anche mettere se non mettiamo neanche l'ingombro è veramente difficile almeno per me per come decoro io è difficile da decorare questa è una pagina praticamente pronta e libera e questo è il retro sono tanto storti Ale proprio tanto sì 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 però sono certa che quando li decorerai non se ne accorgerà più nessuno di quanto sono storti però vabbè anche il fiocco forse potevo metterne un po' meno ma lascio poi a te la decisione di dove tagliarlo e come tagliarlo se volete strapparlo e raddrizzarlo io non mi offendo però da quella parte lì è tanto storta adesso che mi sono spostata e l'ho guardata da fuori dal telefono perché è sempre quella roba lì che mi frega guardate che differenza cioè proprio si sposta tanto mi sto un po' no non voglio perché poi lo se lo strappi tu sono contenta è tanto storto cioè è proprio me nel senso allora di questi folio ne abbiamo ancora tanti tipi diversi ognuno ha dei presupposti diversi alcuni hanno solo tipo la busta alcuni hanno altri elementi a cascata ci sono diversi design sono tutti diversi la cosa intelligente è che sono molto versatili nel senso che in realtà avremmo potuto usare ciascuno di questi tre fogli per fare tre progetti diversi perché comunque in realtà avendo tante facciate a cascata ci consente di usare tante foto di inserire tanti abbellimenti no e oppure possono essere uniti all'interno di un unico progetto io li ho semplicemente incollati uno uno sull'altro e hanno creato un nuovo progetto insieme ma possono essere inseriti anche all'interno degli album della fortinine market e in più lo dico sempre questo tipo di prodotto oltre che essere di facile uso pronto preta scrappé come dico sempre utile anche per chi magari non ha tanta esperienza perché non serve neanche poi nessun tipo di attrezzatura speciale oltre a tutto questo ci insegna come creare poi questo tipo di effetto progetto io le cascate fatte così non le avevo mai viste per esempio Federica adesso non ho visto quali sono finiti di preciso se ce n'è qualcuno in particolare che ti interessa scrivi al trovalo per me che se è ordinabile te lo sblocchiamo o ti facciamo il trovalo per me ok o ti facciamo l'ordine per averlo il custom e li trovo sempre deliziosi mi piacerebbe prima o poi costruirne uno mio così che iniziamo anche questa linea mi piacerebbe ma il tempo per tutte queste cose non saprei assolutamente dove prenderlo però tenete presente che c'è la sulla lista delle cose da fare così come il retro del timbro delle ATC che è anche una roba che non mi avete per niente mai chiesto e che ho segnato che devo fare assolutamente non vi preoccupate ce l'ho a mente allora io per ora vi ringrazio vi carico il video su youtube vi ricordo che ci sono gli sconti gli stessi sconti delle giornate del ponte che vanno avanti fino a domenica abbiamo fatto una cosa più tranquilla la maggior parte degli acquisti ovviamente sono già stati fatti durante la festa ma se qualcuno avesse dimenticato qualcosa volesse aggiungere qualcosa non avesse fatto in tempo a chiudere il carrello trovate sempre la sezione degli sconti al 70-75% degli articoli più vecchi e al 50% degli articoli nostri del nostro brand più datati e in più potete scegliere l'omaggio del traveler con un acquisto da 45 euro adesso vi carico il video su youtube aggiorno il prodotto contenitore aggiungendo il kit di 12 carte e poi ragiono su che cosa fare bene domani magari mi viene in mente qualcos'altro e facciamo un'altra cosa un pochino più easy e ci lasciamo questi progettini un pochino più molto più rapidi insomma per la settimana in cui magari sono un po' più ingolfata questa dovrebbe essere un pochino più gestibile domani abbiamo degli arrivi ma domani non no domani domenica lunedì abbiamo degli arrivi ma non credo comunque di riuscire a fare il live perché ho un impegno a metà pomeriggio secondo me non riesco a rientrare in tempo però abbiamo poi tutte le altre giornate il grosso della promo più o meno sarà stato fatto quindi ritengo di poter essere un pochino più presente grazie a tutti buon pomeriggio e ci vediamo domani mattina per il caffè insieme per il progetto in pigiama ciao ciao ciao